Ciao ragazzi, benvenuti qui con me, un ospite che è un amico in realtà, abbiamo già fatto tante robe insieme, è già venuto in parecchie mie live, eventi dal vivo e tutto, ovvero Federico Marengo, ciao! Ciao raga, ciao Dario, grazie dell'invito. Ciao, grazie a te. Allora, perché siamo qua? Allora, diciamo subito le osse a me stanno. Siamo qua perché finalmente abbiamo chiuso e siamo in procinto di mettere in vendita la collaborazione tra Smile e Garment, il tuo marchio. Sì, Garment Workshop, esatto. Esatto, e ci abbiamo lavorato quasi un anno, perché poi racconteremo anche come funziona il tuo lavoro, così poi ci colleghiamo al perché dei tempi, come abbiamo prodotto, i materiali e tutto. Però non vogliamo che sia una marchetta e basta, anche perché questa è una puntata di Radio 8 Modaci a tutti gli effetti. E quindi prima parliamo del tuo lavoro, quindi vediamo come siamo arrivati a questa roba qua e poi vi facciamo vedere i pezzi, vi riveliamo i prezzi e poi vi diciamo quando potrete acquistare. Ok? Allora, innanzitutto Fede, magari lo sanno già molti che ci stanno seguendo, però bisogna fare la domanda di rito, come hai iniziato e perché hai deciso poi di metterti, diciamo, in proprio per lavorare nel mondo della moda, che è un mondo molto complesso, pieno di rivali, competizione, un po' di stronzi, vabbè, ma quello sì, ma c'è in tutti i lavori. In tutti i settori. Certo, certo, raccontami un po', dai. Allora, io inizio praticamente nel 2013-2014 tramite, sì, oramai appunto, noi siamo vecchi, la gente lo sa, inizio nel 2013-2014, dopo aver ascoltato per anni insomma l'hip hop e il rap americano, a interessarmi a brand di abbigliamento, brand di moda, insomma, robe di questo tipo. All'epoca il mio beniamino era Kanye West. All'epoca? All'epoca. No, vabbè, lo è ancora, però diciamo ci sono stati recenti fatti che insomma... Ti ero un po' stubbiato. L'hanno fatto, esatto. E andavo su tutti i forum da smanettoni, perché all'epoca c'erano, lo sai meglio di me, c'erano i forum di qualsiasi cosa, c'erano anche i gruppi Facebook per certi versi. Andavo su gruppi Facebook e forum a ravanare, a cercare scarpe, abbigliamenti di un certo tipo. A un certo punto capisco che in Italia era abbastanza facile trovare queste scarpe molto ambiglie da tutti, anche abbigliamento di designer, prime linee. E si poteva fare una cosa che era una specie di reselling, diciamo vendendoli all'estero, sia in America che in Asia, dove erano più interessati a comprare questa roba, anche a un sovrapprezzo. Gira che ti rigira, all'epoca passano due anni, oltre ai forum c'erano i blog scritti, creo un mio blog con WordPress, in cui prende la roba che compro per poi rivendermi, era comunque roba gustosa, quindi non mi potevo permettere di tenermela, tra virgolette, inizialmente. Prende, ci faccio un articolo, ci scrivo a riguardo, su questo sito si chiama Luster Catcher, che fa ride, sembra il nome della carta magic. E praticamente, dopo che inizio a fare un po' di articoli, passano due anni, ci saranno parecchi lettori, dico ma perché il medium più giusto mi sembrava però fare video a riguardo, che potevi far vedere come stavano indosso, era molto più dinamico, no? Inizio un canale YouTube in inglese, che si chiama alla stessa maniera, Super Cringe, e passano ancora altri anni, e inizio però, questo era più un hobby, no? E inizio a, dopo che mi ripetava abbastanza facile, bravo scusami, era abbastanza, diciamo, mi riusciva facile a smanettare con i social, e all'epoca i negozi, le attività, i business, non sapevano come utilizzare bene, che ne so, Instagram o Facebook per dare un push al proprio business. Di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando comunque di 2014-2015. Ok, quindi nemmeno un'infinità di tempo fa. Però, come sai, cioè la gente usava Instagram veramente solo per postare la foto del proprio gatto, tra virgolette. Io andavo, abitavo ancora a Roma, perché sono di Roma, andavo veramente a bussare a porta a porta a negozi di abbigliamento, perché mi riputava un po', insomma, quello che mi interessava più, ma anche per sbalcare il lunario, anche bar, ristoranti, eccetera, eccetera. E praticamente gli fornivo sto papiello, che ce l'ho ancora a casa, ogni volta che lo rivedo mi viene il magone, perché era orrendo a livello grafico, in cui ce l'ha scritto Instagram Next, veramente tremendo, però mi offrivo da fargli il social media manager, e mi è andato abbastanza bene, perché mi era aperto anche una partita IVA. E a un certo punto, tramite un mio amico, con cui lavoravo, e lavoro ancora oggi, Valerio, ci mettiamo tra virgolette in società, ma anche se non avevamo una SRL all'epoca, perché era impensabile comunque, perché non c'erano tutti questi guadagni. Poi iniziamo a farlo anche per boutique più interessanti, che è una brand di alta moda, una di queste era degli Effetti, a Roma, in centro a Roma, che era una delle boutique storiche di Roma, in cui negli anni Ottanta era stata una dei primi a avere dei brand giapponesi, di alta moda, di design, tipo Junior Watanabe, dove è stato tante volte in Giappone, Comme des Gerson, l'Undercover di Jun Takashi, l'avrei sentito e visto tante volte a Tokyo e nei dintorni. E iniziamo a offrirgli questo lavoro di social media, però poi noi parlavamo solo con lo store manager, che non era il proprietario. No, chiaro, chiaro. Andiamo a conoscere anche il proprietario, capisce che non eravamo solo bravi a utilizzare i social per la sua attività, ma che ne sapevamo anche di abbigliamento, di moda, i trend, cosa la gente voleva comprare e cosa no, e quindi ci prende come assistant buyer. Il buyer è praticamente quello che in un negozio multimarca, diciamo, va alle sfilate e agli showroom sei mesi prima, che la merce arriva in store, e decide cosa ordinare dai brand, insomma, all'ingrosso, tra virgoletta, wholesale. Inizio così e continuo a portare avanti anche il discorso dei social, che appunto, dei miei social, che era comunque un hobby, da canale YouTube in inglese, che facevo, avevo 10.000 iscritti circa, all'epoca. Però vedevo che, non lo so, pur conoscendo bene l'inglese e parlandolo abbastanza bene, sfiguravo rispetto a tutti quelli che facevano lo stesso, diciamo, mestiere, però all'estero, perché comunque c'era una pronuncia abbastanza maccheronica. E a volte, facendo review di pezzi di capire di abbigliamento, non sapevo trovare i termini giusti per spiegare l'inglese, cioè sentivo che mi mancava qualcosa. E mi viene in mente a me, appunto, al mio amico Valerio, ma perché? Dice, perché non proviamo a farlo in italiano? E vedo, infatti, quel punto era il 2000, la fine del 2016, nessuno lo faceva in Italia, di parlare di scarpe, abbigliamento, eccetera, eccetera, con un occhio un po' più, anche di, non dico culturale, però di informazione. Così divulgativo. Bravo, esattamente. E inizio il canale in italiano, faccio i video, quelli di prima che fanno più views, era come distinguere tipo una Yeezy, una Jordan fake da una vera, una Yeezy fake da una vera, stiamo parlando dei sneakers, per chi non lo sapesse, immagino quasi tutto, le film Supreme Box logo, quelle classiche loro. Quelli sono i video che fanno più views, quindi inizia a immaginare parecchi iscritti e poi dopo un po' mi becco a Milano con sto creator che si chiama Kofi, che era estero, che faceva sto format che spopolava all'estero, che si chiamava Omacis Your Outfit, che praticamente lui andava in giro a chiedere a Londra, principalmente in Inghilterra, alla gente quanto costasse, cosa indossavano e quanto avessero pagato quello che indossavano. E mi becco con lui, gli chiedono, ti dà fastidio se lo porto in Italia, un format ovviamente solo in italiano, ho detto, no, no, fa pure. Ah, cioè quindi sei uno dei pochi che ha preso un format estero e ha chiesto il permesso al legittimo proprietario per farlo in italiano e ti hanno dato pure il permesso. Sì, sì, sì. Che grande, bravo. Ovviamente non c'era un overlap di pubblico praticamente e poi lui comunque è ancora molto forte, diciamo la sua production value era comunque anni avanti rispetto a quello che facevo io, con la mia, c'è una mirrorless di merda con cui facevo sti video e inizio a farli e quelli là sono andati più virali di tutti e con cui mi sono preso sia io che la gente che intervistavano ha più insulti in assoluto. Quindi diciamo vado avanti così e piano piano… Però te ne sei sbattuto degli insulti, direi, se sei andato avanti o no. Sì, sì, sembra, non me ne è mai fregato niente. Andando avanti, diciamo, ho sempre portato avanti appunto sto discorso del lavoro sui social, al lavoro vero, tra virgolette, anche se è brutto dire così, e mi hanno assunto in una… c'è un assunto in questa multinazionale che era anche uno showroom a Milano che si chiamava Tomorrow SRL, abbiamo lavorato due anni in là, poi, putacaso, fine 2019, abbiamo capito che potevamo fare di più e non essere, diciamo, dipendenti di qualcun altro e ci diamo le dimissioni da un contratto a tempo indeterminato e è un po' insomma quello che, bene o male, quasi qualsiasi italiano vorrebbe. Facciamo la nostra SRL, due mesi dopo il covid parte, però ce la siamo caduta bene, l'SRL è ancora adesso un'azienda di consulenze in ambito fashion, che era quello che facevamo prima per i negozi e per questa multinazionale, e poi due anni dopo ancora, nel 2022, apriamo Garment Workshop, che è il brand, dopo che abbiamo detto, ma sappiamo fare consulenze e dare le idee giuste a brand di terzi e a altre persone, penso che possiamo fare, abbiamo quei nostri risparmi, possiamo anche avviare un brand di nostre proprietà e così poi è stato. Rispondo io alla chat… Questo monologo… No, no, va bene, in realtà hai riassunto tutta la tua carriera in pochissimi minuti, quindi sei stato anche molto bravo, rispondo ad un utente chat che dice, ma perché parla al plurale? Perché penso, poi mi smentirai, che non sei da solo, ci saranno dei soci, c'è un gruppo di persone che lavora, ok. Bene, allora, approcciamoci un attimo alla produzione di vestiti, allora come funziona? Perché te produci in Italia… Sì, quasi tutto in Italia, sì. Ok, e ci saranno delle difficoltà, probabilmente, o comunque dei tempi che poi allungano tutte le questioni. Voglio capire come deve fare una persona, o come fai te nel tuo caso, a produrre un capo, una collezione, cioè come funziona il processo lavorativo. Allora, partiamo dal dire che il mondo dell'abbigliamento è uno dei settori in cui c'è una filiera produttiva, una delle più lunghe. Forse, diciamo, un settore diverso, ma che ha una filiera abbastanza lunga in maniera analoga, può essere quello del cibo, del food. Il fatto è che poi è anche uno dei grandi problemi del fashion, anche a livello di sostenibilità, eccetera, eccetera. Quando tu fai un capo, prendi di approvvigionarti di tessuti, etichette, potremmo dire anche a volte il filo di un certo tipo, i polsini di una felpa, spesso e volentieri tutte aziende diverse. Ah, ok. E più un capo è elaborato, più ti devi, diciamo, appoggiare, devi lavorare con diverse fabbriche, diverse aziende, per poi arrivare al prodotto finito. Negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi vent'anni, con l'avvento del fast fashion, quindi di catene, di multinazionali giganteschi, come possono essere Zara, H&M, Primark, Bershka, blibli bla bla. Diciamo, la gente, dato che sono capi che costano molto poco, pensa che è tutto molto facile, insomma, che, infatti, è una cosa a livello divulgativo sul mio canale, ho cercato di spiegare tante volte. Cioè, ti facevi l'esempio della fabbrica dei mostri, mentre eravamo in là, perché c'è uno stampino, butti dentro la mistura. Molta gente pensa che sia così, che c'è una stampante 3D che ti fa uscire la roba con il timer di 10 minuti. In realtà non è così, perché comunque sia ci smette parecchio tempo e parecchi passaggi che allungano di molto la filiera. E ovviamente, diciamo, più uno fa una cosa elaborata, più questa filiera si allunga sia a livello di costi che a livello di tempi. In Italia, che grazie a Dio il nostro paese è ancora una delle, su quasi tutte, diciamo, le categorie mercelogiche del fashion, non su tutte, perché su molte, ad esempio, la Cina ci ho superato, c'è poco da dire, ad esempio, che ne sono, le sneakers, per dirne una, con le più tecniche, o l'abbigliamento tecnico. E l'Italia è ancora un primato. Tutte le prime linee, brand proprio d'alta moda, producono quasi tutti in Italia, quasi tutti i loro prodotti. Quindi c'è, da un lato è un bene, che comunque sia, significa che c'è ancora molto, potremmo dire, il pil, viene ancora, potremmo dire, sostenuto anche in parte da le aziende di moda, e ci sono appunto molte aziende che sono proprio un fior all'occhiello a livello mondiale. Dall'altro, se quando uno parte, fa, da una start-up, cioè il mio brand, nonostante ci sia da tre anni, e comunque io ho una certa expertise, lo reputo ancora una start-up, ci si scontra contro, appunto, diciamo, realtà, non sono competitor, diciamo, però tu vai a una fabbrica, che sai che è una delle migliori in Italia per fare le felpe, dici, guarda, vorrei fare 300 felpe queste qua, e lui ti dice, ah, va bene, ha delle consiglie tra cinque mesi, perché prima devo fare le 40.000 felpe che mi ha chiesto Fendi, per dire un esempio. Certo. Quindi, diciamo, si rischia molto di diventare l'ultima ruota del carro, proprio per questi motivi, che ovviamente sono giusti, perché ovviamente il produttore, il proprietario della fabbrica, ovviamente mette davanti i suoi bisogni, anche economici, e quindi preferisce produrre anche per una multinazionale, che immagino anche a livello di, diciamo, di solidità, preferisce. Però rischi di diventare, appunto, di metterci molto più tempo per fare progetti anche più o meno semplici. Io produco anche a livello di consulenza per altri, anche per altri brand, faccio delle consulenze per anche molti brand, per cui molti prodotti magari vengono fatti in Cina. Oramai è più facile produrre, per certi versi, determinati tipi di prodotti in Cina, piuttosto che in Italia, perché in Cina sono molto più rapidi, hanno voglia di, diciamo, mettersi in gioco, in certi casi sono 40 miliardi e quindi hanno un sacco di forze produttive in più e fabbriche in più. Quindi per certe categorie morcellogiche può sembrare assurdo, ma è diventato più facile produrre dall'altra parte del mondo, con tutti i problemi che comunque legano, perché ovviamente ci sono anche un sacco di critiche da fare per questo motivo, con tutti i problemi che ne denota, però è più facile produrre dall'altra parte del mondo rispetto che, appunto, magari in Toscana. Ok. E quindi cos'è che ti spinge a continuare su questa strada? Cioè, io penso che arrivare alla fabbrica e metterti in coda sempre, comunque possa talvolta essere frustrante. Quindi cos'è che ti dà la forza per dire ok, no, però devo perseguire questo obiettivo di fare 100% cotone, di produrre in Italia, di fare un buon lavoro di questo tipo? Questa è un'ottima domanda, è appunto per, uno, per tenere alta la bandiera del Made in Italy, dove appunto noi ancora siamo in eccellenza. Ok. Due, per dare uno dei pillar del brand, dare un prodotto con il maggior rapporto qualità-prezzo al consumatore. Ok? Quindi comunque producendo in Italia, dando un prezzo, diciamo, con poco mark-up, poi quasi apriamo un vaso di Pandora, quando dico questa parola di solito, e quindi con un ricarico che non è troppo alto, permetti dare al consumatore un prodotto veramente valido per quello che paga. Tre, è perché appunto, facendo tutto in Italia, con tessuti di un certo tipo, uno cerca il più possibile, ovviamente è un esempio stupido, in paragone stupido, perché non è esattamente così, però cerca di fare tutto il più possibile, avvicinandosi a una specie di chilometro zero, come esiste un po' per i prodotti nel food, no? Quindi diciamo, questi sono un po' i valori che mi spingono a continuare a produrre quasi il 90% dei capi in Italia. Ok. Invece a livello marketing, Fede, come funziona? Perché penso che, diciamo, innestarsi in una serie di brand che comunque pubblicizzano i loro prodotti da tanto tempo e che ormai vengono riconosciuti, no? Già dal marchio, e sono sinonimo di qualità, di storia, come fai? Come hai iniziato a pubblicizzare il tuo marchio in un, diciamo, in un mondo di giganti? Allora, io sono stato fortunato, tra virgolette, perché ovviamente, avendo fatto tutto quel lavoro prima di aver lanciato il marchio, comunque avevo già una community. Adesso, oramai, diventa sempre più difficile perché ogni giorno scompaiono altri brand, quindi diciamo, uno deve fare delle operazioni di un certo tipo per tenere il pubblico fidelizzato. Ahimè, io lo dico, perché ovviamente, insomma, non sono, riconosco i miei limiti, in questi due anni, due anni e mezzo che il brand esiste, ancora non sono riuscito a sbarcare all'estero, perché comunque, avendo già una community appunto da tanti anni in Italia, bene o male, le persone che potrebbero essere interessate al prodotto in Italia, penso di averle raggiunte in buona parte. Però vorrei arrivare all'estero con, e non è facile perché ci vogliono investimenti insomma, ingenti, perché, secondo me, proprio essendo un prodotto quasi nella totalità made in Italy, l'estero, cioè lo straniero, dà più valore a questa cosa. Cioè, l'italiano medio gli fregaminano il made in Italy rispetto al giapponese o che sa che impazziscono i prodotti italiani o anche l'americano. È un po', io spesso faccio questa metafora, è un po' come il romano di Roma che è nato e cresciuto a Roma ma che non è mai andato al Colosseo per chi dice ce l'ho là, ci posso andare quando mi andrà, quando mi pare. È un po' lo stesso per il prodotto d'abbigliamento made in Italy, secondo me. A livello di marketing e comunicazione noi spingiamo molto per la trasparenza dei costi. Se tu vai sul nostro sito, prendi ogni prodotto, c'è scritto quanto ci costa il tessuto, quanto ci costa la fason, che è questo termine francese orribile che è la confezione che però nella confezione è la scatola. Si chiama così il processo di cucire. Fason. Fason. Con la C quella strana, insomma. Sì, sì, sì. E quanto costa. Ah, ok, tipo Fason, sì, Fason, una cosa del genere. L'etichetta, quanto viene a costare, il packaging e poi il packaging e poi scriviamo quanto è il markup del margine che quasi tutti i prodotti di solito è un 2 o 2.5 E quindi ogni voce la scorpori, cioè giustifichi il prezzo. Sì, sì. Se i ragazzi poi in chat che ci seguono in live va sul mio sito lo vedono insomma dal vivo e ci punto molto a questa cosa perché è una cosa che non fa nessuno. Uno dei problemi più grossi del mondo della moda è che quasi tutti i brand ci tengono a nascondere il reale costo della merce perché è uno dei potremmo dire dei business in cui ci sono i markup i ricarichi più alti di tutti. Cioè brand, un brand come Gucci che questo è un esempio che faccio spesso infatti Gucci non mi ha mai invitato a nessun evento a nessuna sfilata. la maglietta che ho scritto Gucci così che oramai in negozio sta a 350 euro la pagheranno 15 euro quindi è un markup del 1000% tipo no forse di più proprio perché non ci stanno ovviamente ovviamente in quel markup ci pagano pure Jared Leto che fa la campagna eccetera eccetera però molta gente magari non gli frega niente di questo preferisce avere il miglior prodotto al prezzo più basso magari anche con una filiera etica eccetera eccetera e non gli interessa di Kim Kardashian che indossa la felpa di recente avevo fatto pure un TikTok si è venuto a scoprire che l'Oro Piana che è uno dei brand più blasonati e timeless del lusso italiano che da una decina d'anni o forse poco di più è stato acquisito da LVMash che è il gruppo Louis Vuitton che è una delle multinazionali vabbè Arnò è il proprietario che è solo l'uomo più ricco del mondo sale e scende tra lui e Elon Musk si è venuto a scoprire ci avevo fatto un video si è venuto a scoprire tramite questo diciamo potremmo dire report di Bloomberg una testata super acclamata americana che una delle fibre di Kashmir che si chiama la vicugna che la chiama la fibra degli dei che si può diciamo si può approvvigionare solo da delle specie di alpaca che sono appunto le vicugni che si trovano solo in una regione delle Ande in Perù si è venuto a scoprire che questi che prende l'azienda paga gli allevatori che stanno là a tosare le pecore una volta ogni due anni perché ci mette un sacco a ricrescere il vello di questo animale una volta ogni due anni li pagano delle cose degli stipendi che prende da fame da terzo mondo cioè questi hanno fatto nel video ci stanno questi allevatori che vivono in case di fango e di sabbia cioè veramente è una roba da terzo mondo se tu vai sul sito dell'Europiana spara quanto costa un maglione fatta di questa fibra 5000 euro 6000 euro bravo ci sono andati vicino nonostante non sei del settore e loro questa fibra gli allevatori la pagano 200 dollari al chilo quanti chili ci vogliono per produrre un maglione 300 grammi poi il calcolo poi ovviamente non ci siamo proprio ovviamente ci stanno ovviamente la filiera anche là per smacchinare quel filo servono di macchinare di un certo tipo eccetera eccetera quindi ovviamente ci sono dei costi in più però se uno fa un attimo il paragone e poi vai a vedere questo video sul sito di Bloomberg ti rendi conto dello sfruttamento che c'è a qualsiasi livello perché ovviamente spesso si parla appunto di fast fashion Shane, Zara eccetera eccetera che là c'è uno sfruttamento atroce però anche i brand primeline in cui il maglione costa 6000 euro ahimè ci sono situazioni analoghe come questa c'è una persona un barone in chat che scrive mi è piaciuto l'esempio perché è incredibile 5000 euro nemmeno se è fatto con i peli di figa di Miriam Leone delicatissimo si si un barone dicevo infatti in chat grazie mille del contributo senz'altro interessante ho una domanda per Barengo un tempo c'era più attenzione sullo sfruttamento delle grandi aziende Adidas Nike eccetera che sfruttavano i propri dipendenti ma ora con il fast fashion tutti pensano solo a Shane e compagnia varia e l'attenzione sui grandi marchi non interessa più a nessuno esempio la Francia tasserà a Shane ma perché non fa questo anche a Nike Adidas eccetera questo è uno studiato lui si bella domanda bravo allora qua è molto complicato da dire perché una volta c'erano le famose battute ma quella scarpa l'azienda le fa fare le scarpe ai bambini cinesi blibli blabla oramai in realtà in Cina ci stanno diciamo potremmo dire delle condizioni di lavoro molto molto buone infatti molti di questi brand Shane penso sia uno dei pochi che stia ancora in Cina però gli altri brand che ho nominato prima li fanno o in Vietnam o in Bangladesh questi prodotti ok Shane verrà tassata molto probabilmente da da potremmo dire da dalla Francia perché ci sta questa legge che sta avvenendo diciamo se forse si sa la prova non la prova non si sa molto probabilmente Shane verrà diciamo tassata perché si tratta di un di un business B2C ovvero ovvero che il diciamo ci guadagno solo loro perché non ha diciamo non ha terzisti da cui attraversano i loro prodotti vengono venduti non hanno distribuzione fare una cosa del genere su brand e molti fast fashion sono così anche H&M Zara cioè non viene venduto in altri negozi hanno i propri loro negozi di marca di loro proprietà o in affitto in cui vendono di tanta roba se tu lo vai a fare su brand in cui hanno filiere e vengono venduti anche da terze parti rischi soprattutto in Francia perché sappiamo spesso di cosa diciamo delle rivoluzioni traverete piccole o le proteste che si fanno piccole e grandi che siano in Francia rischi che prende si blocchi perché soprattutto se tu vai a tassare adidas che ne so e fai alzare di conseguenza il prodotto dei prezzi significa che il negoziante che sta a che cazzo ne so a Nizza che vende le scarpe adidas nel suo negozio non le potrà più vendere al consumatore che ne so Alessand Smith a 120 euro ma deve vendere a 190 e secondo te sarà contento non penso proprio quindi è molto più difficile fare una cosa di questo tipo quindi dici che ci sarebbe un effetto domino che distruggerebbe delle ripercussioni che avrebbero creerebbero dei seri problemi a tutti quelli che stanno in fondo alla filiera questa potrebbe essere una mia interpretazione poi ovviamente non sono un legislatore è una mia teoria questo potrebbe essere uno dei problemi perché non si può applicare a tutti poi c'è una domanda un po' diversa tutti vogliamo sapere come è stato lavorare con la DPG e in cosa consisteva il tuo lavoro bei tempi era il 2016 in primis in cui avevano conosciuto i ragazzi gli avevamo fatto lo styling di un paio di video spezzacuori e uno e l'altro era magazine aspetta ti interrompo un attimo come si chiama la felpa che indossa lo scopriremo presto non ti preoccupare comunque è un pezzo della linea della corropozione con Smile e Barengaz e abbiamo fatto lo styling per spezzacuori e per magazine in cui gli avevo prestato molti dei miei capi eravamo diventati subito amici con loro e in seguito abbiamo fatto lo styling della loro serie tv che era uscita su Team Vision della Dark e bei tempi devo dire erano tempi più semplici e ci si divertiva un sacco là io facevo la figura ero un consulente di styling che lo stylist erroneamente spesso diciamo tradotto come stilista in italiano che in realtà stilista serve più designer quindi il creativo diciamo l'art il creative director lo stilista è quello che sceglie i capi da far indossare a attori celebrities insomma talent durante delle riprese che siano di una serie di un videoclip di uno shooting eccetera e sulla serie il mio era diventato un doppio ruolo perché era oltre era diventato da tipo stylist e costumista che appunto ovviamente se trattando di una serie era anche era anche quello quindi questa è la roba che facevamo all'epoca con la Dark bellissimo e poi domanda per Barengo cosa ne pensi della poca qualità di prodotti di alcuni brand sebbene non siano low cost fast fashion è possibile che scarpe da 120 euro durino sei mesi prima che si sfascino anche in un'ottica green minchia qua ci sarebbe parlare un'ora riguardo questa cosa ok è possibile perché come posso dire i materiali che vengono utilizzati a meno che non si tratta di silhouette diciamo che sono nel catalogo di determinati brand da tanto tempo e quindi si è stata fatta poca ricerca e sviluppo e quindi magari una compra la scarpa all'ultimo grido appena uscita all'ultimo grido sembro mi madre insomma in hype appena uscita magari usa una mescola della gomma o dell'IVA leva che è un altro tipo di materiale che ho fatto le suole che non è stato testato abbastanza uno la compra e ti dura appunto quattro mesi è roba che può succedere ahimè in un'ottica green ovviamente è un massacro cioè non è sicuramente una cosa che fa bene al nostro pianeta non so ad esempio delle tutti vedo spesso indossare un star smith o super star quanto ti durano no in realtà a me le Air Force mi sono durate quattro anni non ti ho mai visto con un paio di Air Force addosso sono state le mie vecchie scarpe le attuali le sto tenendo ora da quasi sei mesi mi sembra ancora in buona condizione no però prima di queste ne avevo una aspetta non è dell'arte però non mi ricordo cos'erano le super star le super star mi ricordo le super star no quelle mi sono durate beh da Natale a Santo Stefano no tre anni tre anni quattro e ci ho scalato anche vulcani in Islanda quindi vabbè in quel caso hanno fatto il suo porco lavoro però perché però non so come sia possibile le scarpe mi apprezzano no perché sono comunque modelli timeless che stanno in catalogo di questi brand dall'Air Force dall'84 se non è Roma ho detto una cazzata la Stan Smith di Nadia ancora prima invece sono brand in cui hanno fatto un testing trial and testing di durato decenni quindi oramai diciamo la mescola che lo utilizzeranno saranno per il prezzo che hanno avranno un ottimo rapporto qualità prezzo io ho indossato talmente poche scarpe che probabilmente da dalle superiori in sum le ricordo tutte tutte quelle che ho indossato perché per me ma le tieni o le butti no alcune le ho tenute alcune le ho buttate le scarpe che Forza ho indossato più di tutte e ancora sono in vita e guarda sono tenute benissimo sono le Adio Bam che era la collaborazione tra Adio e Bam Marghera anzi forse l'Adio era proprio di Bam Marghera io ero fissato con Giacas lanciarono le scarpe e riuscì a trovare uno dei pochi negozi a Pisa che le importava che era Street People che c'è ancora tra l'altro vicino al come si chiama al negozio di dischi la galleria del disco a Pisa comunque una traversa di Borgo e lì ci trovai le Adio Bam era bellissima era la skate lo skate con la linguetta bella cicciona ci credevo tantissimo con l'Adi del loro logo sul lato che scarpe dal tossico probabilmente però adoravo Bam era il mio preferito dei Giacas infatti quando l'ho visto cadere nell'oblio mi è dispiaciuto è come se fosse morto un parente questa riprende però l'hanno messo sale e scende Stivo ho visto delle foto con lui si era detto si stava un po' appunto andando un po' per la retta via magari consigliato perché ha fatto pure si era rappicificato Stivo sbaglio no no in realtà loro gli vogliono tutti ancora bene il problema è che non poteva più girare il film perché era folle arrivava lì spaccava tutto Stivo si è ripreso è diventato vegetariano vegetariano sobrio non fa più niente penso beveva anche il caffè è una cosa allucinante fa gli spettacoli comici in giro vabbè Stivo Mito Dio per me assoluto ma tutti loro per me sono dei scesi in terra sì bimbi le felpe queste che indossiamo sono della nostra collezione ora ve le facciamo vedere tutti mi chiedono di Kanye West per favore guarda parliamone così Kanye anzi Kanye West ci fanno un culo così Kanye West ecco cosa ne pensi e come fondo varie domande cosa ne pensi dell'ultimo periodo di Kanye e soprattutto cosa ne pensi del fatto che sia così influente nel mondo della moda ok allora questa domanda me l'ha fatta in altri 5 interviste quindi magari la gente io non te la volevo apposta per quello però vabbè allora giusto mi hai fatto bene comunque allora nell'ultimo periodo è una persona che mi fa male un po' come ti dicevi prima di 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 BAM mi fa male vederla comunque è una persona che ha dei problemi comunque l'ha detto lui spesso e volentieri ci ha anche fatto un album in cui ha trattato più volte di questa roba soffre di un disturbo bipolare e prima prendeva delle medicine andava appunto da dei medici che lo seguivano negli ultimi due anni e mezzo non è più stato così e comunque ha fatto delle uscite infelici qualcuna si è accennata che non possiamo dire in live e comunque sia diciamo ha un comportamento in inglese dice eretic non so come mi è tradotto in italiano che diciamo non gli permette di concentrarsi al meglio su tutto ciò che fa che sia la musica o che sia anche tutti i suoi diciamo la parte più da imprenditore da designer con le sue varie linee eccetera eccetera l'ultimo album a me ci sono belle tracce non lo reputo un album spettacolare vultures lo sono comunque andato a vedere a qua in Italia al forum a Milano mi sono divertito comunque un botto non è non è all'apice della sua carriera ecco adesso continuo a essere riguardo all'altra domanda ancora così influente perché comunque sia a parte essere eseguitissimo ma perché la sua aura è ancora diciamo la più influente perché è stato uno dei primi nel mondo dell'hip hop del rap in America a riuscire a fare delle connessioni delle collaborazioni senza dubbi con marchi che erano che sono ancora all'apice della moda primi tra tutti nel 2008 con Louis Vuitton aveva fatto una serie di sneakers prima di chiunque altro le Jasper le donne sono sneakers che adesso oramai vanno a migliaia e migliaia di euro per sia collezionista e con Vape prima ancora di Nigo il brand giapponese di Nigo e quindi ancora oggi diciamo plasma il mercato e ancora oggi comunque non è da da smentire il fatto che continua a portare idee interessanti quando ancora non aveva scazzato con Adidas aveva fatto tutte le varie scarpe in monoblocco in gomma monoblocco tra le slides e le foam runner creando proprio un trend cioè l'ha fatto non per primo lui ma l'ha fatto lui in maniera un po' più approfondita da quel momento qualsiasi altro brand della moda che se la potesse permettere di fare silhouette simili l'hanno copiato quindi comunque nel bene e nel male continua a essere influente sia per le sue idee sia per le idee delle persone di cui si circonda c'è un'altra bellissima domanda poi passerei ai nostri discorsi baremo cosa ne pensi di persone che effettivamente forse altre due o tre riusciamo a farle comunque vediamo baremo cosa ne pensi di persone non possono permettersi capi green ma sono in qualche modo costretti a comprare fast fashion capisco i costi lavorazione dei materiali ma potrebbe esserci un brand economico che non è considerato fast fashion o con materiali pessimi per chi non può permettersi di più è tosta la domanda da un milione di euro posso dire una cosa magari mi smentisci e mi può smentire anche la chat secondo me questo problema iniziamo a vederlo un po' con tutto con il cibo e con i vestiti con le macchine con cioè c'è manca la parte centrale cioè il dislivello tra classi sociali è talmente ampio si sta sempre di più allargando che a un certo punto andrà a mancare la parte centrale che un tempo negli anni 60 e 70 veniva rappresentata dalla media borghesia italiana che ormai sta scomparendo e aumentano i poveri ricchissimi questo è un po' il punto della situazione per quello che sto notando io per quello che mi informo e leggo poi ovviamente non sono un politico né un sociologo né niente però questo è quello che mi sento di dire è quello che percepisco io quindi è difficile credo nella moda ancora di più soprattutto a fronte di quello che hai detto prima ottenere una roba così credo è molto complicato proprio perché diciamo dovrebbe ci dovrebbe essere tutta una serie di fattori e di investimenti che ad esempio per fare un prodotto green ok di un certo tipo ci vuole proprio un dipartimento di ricerca e sviluppo cioè per fare che non so la scarpa si parla spesso nell'ambito della moda la pelle vegetale e dico vegetale non la pelle vegana che è un termine che si usa per fare la plastica in realtà la pelle vegetale derivante dalle che ne so dei funghi o dalle bucce di ananas ok per ottenere quei tipi di materiali ci vogliono anni di ricerche proprio fatte da scienziati da ingegneri quelle ricerche costano e poi credo anche tonnellata di energia per produrre esatto quindi è ovvio che poi il prodotto non può costare la borsa o la scarpa fatta di pelle vegetale non può costare 50 euro perché tutti quegli investimenti fatti negli anni devono essere spalmati in qualche maniera sul business plan e sul prodotto quindi effettivamente è un cane che si morde la coda è molto complicato per evitare di andare a comprare nei fast fashion oramai secondo me la cosa migliore è totalmente sottoganata infatti lo facevo pure dieci anni fa e la gente amici miei dicevano ma zì ma che sei pazzo io compravo da Grailed appena nato da eBay vestiti usati il mercato cioè proprio il mercato di paese secondo te può essere una soluzione dipende da mercato a mercato cioè tu vai da Porta Portese a Roma trovi capi vintage interessanti eccetera eccetera vai in altri mercati trovi la roba fatta in Bangladesh che comunque sia insomma non è il top io ho una filata di mercatini a Ichebucuro dove trovo non vedi loro perché ci sono le felpe di Topolino quelle vintage che vendevano solo ai Disney World eccetera e ci ho trovato la mia felpa federita che è quella con Topolino in moto scritto a net che probabilmente cuscivano lì a Disney World quando la compravano e io vado lì mi carico lì di vestiti per sicurezza no Dario è il contrario i poveri diventano più poveri i ricchi più ricchi ma perché questo avvenga il ceto medio si deve stendere che è esattamente quello che ho detto io poco fa però potrebbe essere anche il contrario tra l'altro proprio questo ricordo ti rubo un secondo vai certo pensa che i brand più blasonati come appunto ti do l'esempio di Chanel negli ultimi due anni dopo la pandemia proprio perché quella pandemia soprattutto i ricchi sono quelli che si non archivi di più certo devo stare zitto però però parlo di ricchi veramente gente che fa i miliardari pensa che Chanel ha iniziato in alcune diciamo key cities in alcune città chiave importanti ha iniziato a fare dei negozi a porte chiuse tra virgolette per solo i very important clients i VIP dei clienti i cosiddetti VIC e ci possono accedere solo i top spender che rappresentano diciamo magari il 10% della loro clientela che però comprano per il 60% del fatturato e quindi hanno iniziato a fare questi negozi solo su invito dove possono accedere solo queste persone proprio per diciamo dare più forza a quello che ho detto prima che era giustissimo ok 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 domanda cosa mi penso per il marchio ah sì come si pronuncia Mischif forse no Mischif sì ok noi abbiamo aperto le carte delle patenti delle cose le carte identiche c'è quel masico che ora arriverà per parlare della collaborazione incredibile che abbiamo fatto considerando l'azienda la strega di un collettivo artistico adesso che producono scarpe costosissime può essere ancora considerata arte come si pongono nel mercato e che contributo stanno dando tutte grandi domande non vi credevo così amanti la sticella si è alzata oggi boia sono contento in generale i tradizioni fanno sempre belle domande però non mi aspettavo così tanto amore per questo mondo dato che sei con un pezzente che fa giro con vestiti riciclati o rubati alle altre persone allora sono contento con questa domanda Mischif è in realtà super interessante io ho preso ultimamente una delle loro ultime scarpe che è questo stivale timberland tutto strano stampato in monoblocco allora sicuramente diciamo una volta era più diciamo art for the art's sake tra virgolette scusate per questo inglesismo adesso è diventato un vero e proprio business in tutti i sensi e infatti prima era molto più sperimentale adesso loro che fanno capiscono che c'è un trend soprattutto sulle scarpe cercano nella maniera più veloce possibile di infilarci e fare un qualcosa di molto strano e comunque sia molto creativo molto sperimentale che però diciamo prende quella appunto quella moda in modo che la gente possa comprarla abbia voglia di comprarlo è stato fatto di recente con appunto che si stiva lì timberland è stato fatto ancora prima con quel discorso delle scarpe monoblocco che ti dicevo prima con Kanye che loro hanno fatto il big red boot che era quello però diciamo copiato ideato da era uguale a quello di Astro Boy l'avrei visto quello rosso e quindi appena vedono che c'è una novità o una cosa del genere ci si infilano e fanno dei prodotti che bene o male proprio perché sono molto sperimentali e comunque sia c'è un processo creativo abbastanza ingegnoso dietro vanno comunque sia vanno a ruba nonostante oramai diciamo il prezzo di ingresso l'abbiano alzato di parecchio c'è poco da fare bene allora dai facciamo l'ultimissima domanda ragazzi domanda per Barengo come ti stai appassionando alla cultura potrebbe mai arrivare un momento in cui il mondo della moda comincia a deviare verso il green la sostenibilità a discapito della qualità dei materiali e della bellezza seppur soggettiva dei capi d'abbigliamento allora da un punto di vista magari più di realtà artigianali magari sì tutti i brand più grossi che siano del lusso che siano del fast fashion è impossibile tutte queste realtà sono governate da sono multinazionali che devono rispondere a degli shareholders degli non so più parlare in italiano degli azionisti ah sì prima hai detto eretic secondo me era bello il termine scheggia impazzita bravo ci sta ci sta e devono rispondere a delle richieste degli azionisti in cui appunto la richiesta più grande è money 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 margini eccetera eccetera e quindi è impossibile per queste realtà fare un prodotto in cui loro ci vadano a perdere perché appunto come dicevo prima per fare un prodotto veramente green ci vogliono anni anni di investimenti che difficilmente riesci a riprendere se diciamo prezzi il prodotto a un prezzo basso bene allora ragazzi siamo arrivati a noi proprio in virtù del fatto che rispetto tantissimo al lavoro di Federico e la la sua etica lavorativa anche il fatto c'era una persona che scriveva ma come faccio a capire quali negozi fanno la cresta e quali negozi invece fanno una cresta cioè una cresta hanno un rincaro giusto etico nel loro lavoro ecco Federico è uno di quelli scorpora il prezzo sul sito dei capi che vende e proprio per questo io il Masi con Smile Masi se puoi venire già puoi venire non c'è problemi abbiamo deciso di contattarlo per una collaborazione perché dopo aver fatto bello perché Masi mi ha accensurato esatto facciamo così dopo che io mi sono occupato del mio del mio merchandising non so quale sia hai trovato perfetto eccoci comunque prendeva bene anche questo da solo vabbè mi ero mi ero rotto il cazzo di fare del merch con la mia facciona o con la mia caricatura o con qualcosa di simile nonostante abbiamo lavorato benissimo anche con i nostri fratelli Dolly Noir che salutiamo ringraziamo sapete che da un annetto all'incirca quasi preciso un anno poco più di un anno abbiamo fondato questa questa sorta di management di artisti di creativi che si avvicendavano sul sul mio reddit principalmente e che sono stati messi sotto contratto da da Smile e abbiamo iniziato a gestirli abbiamo lavorato tantissimi con tantissimi brand MSC Crociere il Milan Kellogg's Panini un sacco di robe altre robe successe nel mondo del cinema ora stiamo approvando il mondo della musica e poi con Federicone da un anno infatti grazie grazie a Daria grazie al Mase per questa opportunità comunque anche perché mi ha permesso comunque Garment Workshop nasce faccio una premessa nasce con un brand comunque di basici quindi roba bene o male anche se con trattamenti eccetera eccetera è sempre stata roba poco carica a livello grafico però a me piacciono i materiali esatto beh no ma è anche una filosofia cioè io non mi reputo un grafico c'ho un certo gusto ma non so fare ecco quindi non mi voglio appropriare di qualcosa in cui qualcun altro eccelle quindi secondo me questa liaison questa partnership questa collab questo è bello ha proprio un senso perché si unisce il meglio di quello che facciamo noi col meglio che fate voi e i vostri artisti infatti tra l'altro la cosa che fin da subito quando poi ci siamo visti anche quando si è fatto quel fantastico pranzo in quel ristorante a Firenze era molto buono eravamo noi tre e basta una roba incredibile però fin da subito la cosa che mi ha colpito è innanzitutto la passione che ci metti la competenza ma poi l'idea l'idea diversa da appunto il classico merch facciamola con collab che purtroppo visto che io mi occupo molto spesso di essere il filtro di tutto quello che viene proposto a Smile di collaborazione eccetera purtroppo fin troppo spesso l'ottica è ancora quella del faccio una cosa con loro perché il merch perché Dario la pubblicità le cose no 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 noi vogliamo diventare un'altra cosa esatto la cosa poco bella di questo progetto che non è niente di più lontano di qualcosa che sia merch e quindi è proprio figo perché i materiali sono meravigliosi anche a parte in questi giorni l'avete visto visto che abbiamo indossato i prototipi ogni due nanosecondi tanto anche il tubabbo ci si è messo a scavare nel ristorante con i primissimi prototipi con i colori sbagliati una roba incredibile è proprio bello poi ci abbiamo messo i mega artistoni nostri allora spieghiamo un po' com'è l'idea concept fatto da Dario ma insomma è proprio un bel progetto e vabbè se ne parlo ora piano più io volevo volevo appunto i materiali di Barengo le conoscenze i contatti di Barengo perché a fede questi materiali sono felpe caldissime morbidissime fantastiche 100% cotone insomma roba roba molto bella però dato che lui sbianca tutto cioè lui vuole proprio la roba per usare un termine da Barengo super flat che però è il movimento anche di di Murakami e ho deciso di fare una roba completamente folle in pieno stile smile e dato che io sono molto appassionato di movimenti pop anche che attingono la cultura geek e nerd e alle sottoculture insomma di certi movimenti come abbiamo il movimento cioè il movimento il genere sci-fi è bello che il cyberpunk lo steampunk che sembra siano costole o comunque trasformazioni mutazioni di questi o variazioni pennellate di questi generi e allora sono andato a prendere quattro movimenti che mi fanno impazzire che la loro estetica mi hanno sempre fatto battere il cuoricino che sono ovviamente il cyberpunk lo steampunk solarpunk solarpunk o ecopunk che dici voglia comunque questo è quello forse meno conosciuto è una sorta di futuro non distopico come il cyberpunk non una sorta di retrofuture come il per voi alla nerd maniera alla c16 che accarezza gli uccellini esatto è la tecnologia che si fonde con la natura sì 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 cioè è proprio quasi l'opposto del cyberpunk era per andare all'osso cioè un'umanità che ce l'ha fatto ha investito nelle giri rinnovabili e si è fusa totalmente alla natura ha riscoperto la natura che si è fusa però alla ultra tecnologia è una roba super affascinante e infine abbiamo preso il biopunk movimento assai disprezzato assai dimenticato ma è fantastico è la carne proprio il pulp le leviscere che si fonde l'alien sì bravo una roba del genere che si bravo una roba gigeriana cioè la macchina che si fonde alla carne anche cronenberghiana come visione è vero e quindi abbiamo fatto una felpa e una maglietta per ogni movimento abbiamo fatto una sukai che sono le tipiche i tipici giubbotti giapponesi quelli un po' da da teppisti abbiamo un prototipo e poi abbiamo fatto un un pantalone di tuta cyberpunk steampunk steampunk la cosa che il progetto dell'idea artistica di Dario si è fusa poi in realtà all'intenzione di fede in una maniera molto naturale perché quando ci siamo beccati quella volta a Firenze ho detto guardate mi garberebbe fa sta roba che ho visto o che ti hai riguardato mi ricordo dove gli artisti i designer e roba hanno disegnato sulle felpe sul capo ed è fighissimo perché dà proprio quella quell'impressione di artiginalità di artisticità questo è veramente figo infatti poi dopo facciamo vedere un video insomma abbiamo fatto delle robette fighe dopo possiamo dire tranquillamente che lo possiamo dire pubblicamente ma vi giuro non è una lecchinata Barengo è stata la migliore persona per ora il miglior committente con cui abbiamo lavorato mai un problema mai uno mi scalda il cuore gli facevo le correzioni magari allarghiamo qui un po' la stampa sì ora il contatto faccio non gli spiegava nulla è una cosa incredibile meravigliosa sì meravigliosa e poi si è utilizzata appunto una cosa si è puntata e ha fatto bene perché ho d'altra parte la sua linea sul taglio delle felpe e delle maglie cioè una tua linea parlaci un po' di questa roba del boxy sì sì è una vestibilità abbastanza contemporanea nel mondo della moda dello streetwear ovvero che anche ti permette di capire quando un capo è stato realizzato da zero e non è appunto come dicevi te prima un merch con le magliette gildan o cose del genere che compri dal grossista ma ogni capo è sviluppato a zero con un modellista che fa il cartamodello un sart eccetera eccetera quindi si tratta di felpe vabbè le vedete le vedete addosso a me a dare adesso con la spalla un po' scesa le maniche un po' più luse un po' più larghe il torace un po' più largo quindi la vestibilità comoda e però non è una felpa diciamo abbondante abbondante che ti cade che fa un po' effetto pigiama possiamo dirlo ma è un po' più corta quindi questo diciamo è il boxy fit spiegato spiegandola tutto e la stessa vestibilità bene o male ci sta anche sulla t-shirt ora direi di iniziare a far vedere qualcosa andiamo pezzo pezzo va bene da dove partiamo che poi tra l'altro vi dico una cosa mentre Dario prepara le varie cosine la roba in tutti questi in questi ultimi giorni pre lancio c'è Fede che è completamente impazzito e mentre andava in fabbrica ha iniziato raga ho provato questa roba è incredibile e allora ha iniziato a sperimentare a fare delle cose che hanno portato un risultato incredibile che poi tra l'altro qualcosa ci sarà anche in vendita i pezzi limitatissimi e abbiamo fatto anche delle hai realizzato delle cose uniche allora questa ragazzi è la felpa io allargami un po' dezoommami dezoommami questo è un po' facciamo il funario di guzzanti no? zoomalo e indietro bravissimo allora questa farla vedere bene facciamola vedere alla regia questa è la felpa bio punk realizzata da paolo marro ovvero pasta a colazione diciamo nome e soprannome come vedete ha questo decoro molto fallico adatto per andare a messa o a cena come parenti come vedete c'è questa grafica qui come vedete la felpa sembra quasi una tela su cui l'artista ha disegnato qui abbiamo il cappuccio anch'esso decorato ovviamente c'è questa decorazione enorme dietro sulle maniche si pensa di aver mai stampato per nessun brand che faccio consulenza una stampa così grossa sul back guarda questa è proprio la televendita comunque amici ecco qua la sborratia poi ci sono i pezzi sulle braccia si ora provo a farvi vedere questi sono un po' più difficili ma vedete c'è anche una decorazione sulle tutte entrambe le braccia fai che te sei professionista non mi ci vedo mi devi dare due milioni eccole qua e c'è anche l'etichetta custom con i loghi di GV di Garment Worker di Smile si questo è il design del Claude e l'Einart di Nico Rippa vabbè ora ve la vedrete qua devo dire è stata l'idea dell'etichetta in più è stata loro bravi perché dà un senso in più io non ce l'avevo pensato poi abbiamo Rico uno dei fiori all'occhiello di Smile perché ci segue da veramente un sacco di tempo questa è quella questa è quella cyberpunk che abbiamo fatto blu elettrico tra l'altro ci sono stati vari tentativi però diciamo che è il Mas il patrono dei colori perché io lo sapete bene ragazzi che insomma è un brutto rapporto quello con i colori lui ha voluto fare questa sorta di tuta che si va un po' a cliccare a giocare e poi dietro c'è la mutazione gigante dio madonna vada questa è la mia preferita è completamente pazza poi col gruppone enorme che mi ritrovo è veramente soddisfacente poi tutti i dati sul cappuccio e ovviamente anche sulle maniche abbiamo i dati di questa di questa sorta di umanoide che un po' come il Mewtwo nella capsula ci fanno un po' di sperimenti perché insomma cyberpunk si fanno sempre questi innesti mi ricordo anche quando il fantasy 7 con Genova ma lo sai perché è così DJ perché se no era veramente troppo pesante davanti un po' più leggerina e dietro esplode business in the front e party in the back ok più che altro ragazzi ci sono c'è questa che c'è una grafica scomposta un po' su tutta la feppa ma lascia molti bianchi qui abbiamo un po' vuoto davanti e pieno dietro e poi così via e così via per esempio questa è la più pulita secondo me diciamo la più equilibrata forse questa è quella bianca questa è fatta Palmen e questo è il solar punk che ha fatto tutti questi motivi un po' passatemi il termine è il termine evangeliani intanto c'è anche la firma non so se c'è Palmen sì sì Palmen è scritto e ora vi faccio vedere anche il retro e si è inventato questa sorta di questa è veramente figa questa cupola dove la città viene viene protetta ecco qua con questa sorta di antenna gigantesca ricorda tipo i Jetson ah sì bravo si ricorda i Jetson e Egged per citare una roba ancora più contemporanea sì e poi sempre questo cappuccio tutto pieno di di queste robe esatto Egged vedi tutti che stanno prendendo Egged lo sapevo che vi sarebbe piaciuta poi c'è l'ultima quella che c'ha a Fede addosso c'è l'ultima sì ma ti potete la pole ah se ce l'hai ah ce l'ha fuori ce l'ha extra è venuto questo è il pantalone questo è il pantalone il pantalone steampunk fatto da Davide Ottani che ho visto tra l'altro in chat è fatto anche il felpone che c'ha a Fede e è in combinazione questo è in combinazione sì questo è un colore veramente che ha scelto Mase veramente figo che è questa sorta di cenere di carbone è un grigio antracite grigio antracite qua dietro abbiamo questo piccolo grammofono questo è steampunk quindi insomma e poi ci abbiamo la graficuzza così in fondo al pantalone e la felpa e questa è proprio forse la più esplosiva eccola qua questo è il back questo è il back c'è questa donna bella questa donna sinuosa con questo cappellone e poi abbiamo il davanti qui abbiamo tutti i macchinari sul cappuccio visibile sì il davanti è anche molto figo e davanti abbiamo questo questa è quella che ha la stampa e allora questa è la particolarità che è quella che ha la stampa più grossa sul front ma non ha non ha la tasca non ha la tasca la stampa era troppo dettagliata e grande per poter fare la cara da tasca però diciamo veramente incredibile gli ingranaggi poi pazzesco poi vedere molti mi hanno chiesto dove è la donnona eccola qua vedete questa signora sinuosa con l'occhio allungato ora poi ragazzi ovviamente stesa la vedete meglio la grafica con questa sorta di negativo appunto sul nero antracinza Dario non si vede è un attimo eccola qua non stanno capendo qual è la signora e cazzi loro questa è dirigibile eccola qua e dov'è eccola sì che si vede eccola bene e poi tipo macchia di Rorschach che devi passare il test esatto se sei un assassino poi c'è l'ultima cosa che abbiamo prodotto no l'ultima c'è le maglie ah già le maglie sì ma che botta però ah perché ok facciamo le maglie prima no lasciamoci il pezzo forte anche se è l'unico di cui abbiamo il prototipo perché quello ragazzi veramente incredibile ah questa è la maglia solar punk che ha fatto chiara fior de ponti qui abbiamo sono molto la nostra chiarina sono molto easy queste qui c'hanno questa graficuzza che è piccolina che è sul petto su tutte le maglie e dietro c'è una bella sempre esplosione di gusto molto golosa mi dice il masseo con il nostro e lui dice sempre goloso penso i termini proprio giusti dell'abbigliamento troppo dettagliata da riong eh vabbè allora prendi la bella ferpa di super mario con la faccia di mario che ride e sei a posto la faglia 15 euro il bimbo ma poi siamo le vomle un prama di base troppi dettagli è bello noi siamo estremamente è come audios che gli dico sei troppo intellettuale bellissimo comunque io vi dico la cosa che voi ora non potete percepire che non potete capire la cosa bellissima di questa roba al di là delle grafiche è il materiale appena lo prendi in mano ti rendi conto che è un qualcosa di valore e di qualità questa è la maglietta cyberpunk questa è una bella questa è bella bella chi l'ha fatta Mayra questa l'ha fatta Mayra Ranieri eccola qua questa devo ammettere che influenzerò il mercato ma è la mia preferita che è di Jacus e retro biopunk ecco qua con questo questo blobone con schermi tubi merda ecco qua e poi questa infine è quella del nostro Kirtar KZap che è quella steampunk bellissima forse questa è la mia preferita eh ti guarda vedendo per me invece è quella di Chiara ti piace quella lì eh qui vi voglio avvicinarmi perché guardate ragazzi il Kirtarone ha fatto un bel lavoro questo lavoro veramente c'è guarda però vedete la caratteristica è che sono tutti i capi a parte ora la Sukajan che vedrete che è una cosa completamente diversa dove ci sono solo line art fatte a mano cioè non ci sono eh né colorazioni né cose diciamo classiche da stampa o robe così proprio come se l'artista avesse disegnato sul capo ma infatti poi ripeto fra poco vediamo un video che abbiamo fatto con Palmen eh mentre stava realizzando la felpa a mano ma dove si compra non ho capito al Conad aspettate un attimo al Conad secondo vi diciamo tutti c'è al Conad c'è un cestone che ho scritto ma yeah e basta e li trovate sì sì un attimino ora ve lo diciamo ragazzi ora poi ragazzi c'è il pezzo fortissimo che è questo a differenza di tutti gli altri sarà l'unico capo prototipo ora vi spiego ora aspetta a parte il prototipo sarà l'unico pezzo a tiratura limitata eh bello ce ne saranno abbiamo detto cento pezzi cento pezzi cento pezzi soltanto perché comunque è un prodotto che costa ad alta qualità è tutto ricavato a mano cioè è una roba senza senza la differenza tra questo prototipo e il definitivo è la grafica sul petto che sarà più piccola e la grafica sul retro ora faccio vedere e la grafica sul retro sarà invece più grande coprirà proprio tutta la schiena da cucitura a cucitura ve la vado a far vedere questa la devo venire vicina perché è un po' eh sì che dicibare di questa sucajan mentre questo è il giubbottino ve lo dite pisti giapponesi questo è il logo fai vedere anche il raso che fede ne va molto molto fiero guarda il naso tutta questa naso si 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 anche il dettaglio del piping quel bordino rialzato sulle maniche questo è un po' più piccolino un po' più sopra allora facciamo una roba ora ci parli te dei dettagli tecnici a dire a poi aspetta aspetta facciamo una roba si quando poco hai fatto questa è la grafica ecco come vi dicevo ragazzi prenderà tutto il gruppone tutta la schiena da cucitura a cucitura però la grafica rimarrà questa ok questa è l'unica differenza quindi andrete proprio cioè la grafica partirà da qua qui sotto il bianco e arriverà ovviamente in fondo al culo laggiù queste qua ve la faccio vedere nel dettaglio eccola qua ci vorrei propostare intanto ma ecco i dettagli allora vabbè è una giacca in raso come tutte io mi sono comprato anche un anno fa un libro in Giappone riguardo alle suga c'erano la storia per studiarle al meglio e vabbè in raso abbiamo i dettagli come il piping sulle maniche cos'è il piping? il piping è quella quel bordino bianco che esce fuori sulla manica che dà quel che circonda la striscia nera sulla manica accanto alla striscia nera quello è il piping quel bordino rialzato comunque l'ha fatta Simone Peano questa l'ha fatta Peano sì l'artista è Peano no no non si vede ti zoomo il piping è questa parte qua che è un dettaglio che rinforza la cucitura che non è non è scontato e poi abbiamo anche sul raso proprio come le suga vintage giapponese non so se si vede in camera c'è una specie di vedete questi pei rombi cuciti con le cuciture trapuntate che è proprio un dettaglio classico delle suga già neanche risalenti a poco dopo la seconda guerra mondiale e la costina in 100% cotone appiccina è un po' più centrale la costina in 100% cotone la classica targhetta in gros di garment e la contata che per il ricamo sul retro che poi nella finale sarà ancora più grande ci si mette otto ore per farlo ogni ricamo sono otto ore di macchine che cuciano quindi capite che qua abbiamo anche un altro prototipo con il davanti giusto proprio per farvi capire che ogni capo c'è c'ha un uno storico una prova una roba sono state fatte prove su prove su prove beh il terzo ma impossibile da indossare guarda ti spiego come si fa mentisci pregamenti non è la mia taglia però ti faccio vedere come si fa infili la prima manica qua dentro poi infili la seconda qua dentro e poi vedi Ale viene indossato qualche dettaglio è questa è una M però vedi madonna l'ho indossato sì questo lo insegnano le mamme a due anni anzi anche meno però vedi come viene oh sai che figurino figurino per davvero però mi serve almeno due taglie in più forse una in più forse una in più forse una in più comunque si fa così a indossare tranquillo e se vai in Giappone ne trovi a bizzeffe che costano tra l'altro allo stesso prezzo nostro però adesso parliamo di prezzi così si deve ardente ah no è vero ci sono le super special come vi dicevo prima Fede in questi giorni è impazzito e quindi mentre era in fabbrica ha detto ho pezzi di merda facciamo questi tentativi e quindi a una certa ha iniziato a fare queste sperimentazioni incredibili su qualche felpa si ce ne saranno alcune edizioni limitate con un trattamento vintage adesso qua sai già quanto limitata? saranno 10 pezzi per ogni felpa molto limitato 10 pezzi 10 pezzi per ogni felpa va vicino e spiega cosa avete fatto spiega bene dai questo è un trattamento vintage wash si lo so perché al contrario vedete che ogni capo è trattato proprio perché per fare come se la felpa venisse da un'altra epoca e da un'altra dimensione qua il disegno diventa un effetto quasi al laser che viene in rilievo sulla felpa in questo caso di questa qua steampunk mentre ad esempio quindi hai deciso di rilievo effetti apposta per ogni felpa mentre ad esempio su questa qua che è quella dicevamo più a sinistra eccoti quella qua cyberpunk il tessuto assume questa specie di colore corallo rosa attorno alle grafiche ok si queste sono una cosa in più ragazzi non sono si aspetta perché quando non sono indosso sembra che diciamo che il colore non sia ben distribuito adesso ci faccio vedere ma ti vede indietro il testatore si si vai se vai indietro lo fa di sicuro che si vede qui in più eccoci vedete come sta indosso c'è proprio un trattamento vintage come se questa felpa venisse da un'altra dimensione e sia stata diciamo assopportato dei lavaggi particolari e dei dei trattamenti strani per arrivare fino a noi sono proprio belle sono proprio però questi ragazzi visto che è una lavorazione assurda ma se parlaci un attimo del tipo di lavorazione se ti va al volo questa è una felpa 100% cotone poi tutte le stampe anche quelle sulle magliette sono in serigrafia quindi resistono a numerosi lavaggi anche perché per fare questa tecnica è stata lavata e rilavata in delle lavatrici industriali che sono delle betoniere sono grosse quanto questa stanza e come vedete la stampa è ancora perfetta e poi viene lasciata asciugare un tot d'ore al sole per ottenere questo effetto ve l'ho detto in due parole ovviamente è molto molto più lunga va bene allora parlando a quello di cui vi interessa tanto pezzi di merda siete sempre dei luridi venali allora palesi inizieranno a piangere fra pochissimo qualcosa sapevano già perché avevo spoilerato con un cane si è andato a prendere il mio quadernino segreto del potere non mai più toccarlo fede innanzitutto il lancio quando lo facciamo il lancio lo facciamo venerdì prossimo che non mi ricordo la data esattamente 5 venerdì 5 sul sito di barengo di garment workshop ragazzi quindi sul sito del barengone troverete non sarà preordine altra roba incredibile di questi tempi ovviamente metteremo storie link comandi viveremo a casa quindi tranquillo però non sarà preordine sarà cioè quello che vedete sul sito è quello che c'è quindi l'investimento di fede è già stato fatto ci ha messo il cazzo sul tavolino quindi già questo è un grande punto avanti secondo step do il lancio i costi i costi prezzi partiamo dalla base partiamo tutti i capi le felpe e magliette sono tutto made in italy e le magliette costeranno 59 euro l'una le felpe quelle abbiamo mostrato prima quelle normali ragazzi quelle insomma in tiratura un po' più ampia 120 euro e la felpa queste qua super pazze 180 il sweat pant il pantalone saranno 95 95 euro poi c'è l'ultimo pezzo la succa la souvenir jacket starà sui 200 su 250 e quanti pezzi saranno 100 io perché fede è troppo onesto per la succa ci hanno visto la mole di lavoro di spese bimbi miei io ve l'avrei fatta pagare di più però fede vi vuole bene ha detto no voglio che più gente possibili la compri e che la gente la indossi per strada e quindi l'ha messa a 250 vale molto di più per quanto mi riguarda però buon per voi detto questo quindi ve le ribadisco velocemente sono 60 le magliette 120 le felpe 95 pantaloni 180 sei pazzo queste felpe con queste lavorazioni completamente buttate di fuori ulteriore cosa ve lo dico però ancora non vi sappiamo dare diciamo i numeri precisi ci saranno dei bundle quindi pochi tipo bundle magliette magliette e bundle felpe che vi daranno la possibilità se le volete tutte di avere un pochino di sconto però ancora non vi diciamo perché non lo sappiamo bene dobbiamo finire di fare alcuni conti non ci sono calzini ragazzi non ci sono calzini non ci sono mutande bundle tra quello che avete visto ragazzi sì bundle ovviamente nel senso che se volete più roba magari riuscite a risparmiare qualcosa della matassa giusto bella questa se non comprare più nulla dopo questa cosa io sono d'accordo con voi vabbè insomma questo è quanto quindi rimanete intanto vi aggiorniamo usciranno un po' di reel un po' di contenuti su tutti i nostri social di smile social di fede Dario io quindi vi pomperemo il lancio alla grande io ragazzi mi auguro che appreziate apprezzerete che insomma che acquisterete perché diciamo posso dire una cosa che è il primo vero progetto storicamente di smile proprio cioè abbiamo fatto tante cose anche grosse in collab con MSC però qui ci abbiamo proprio messo le tazzine erano una cosa più piccola era una cosa più piccola fighissima più piccola questa è la prima volta che veramente ci mettiamo in gioco al 100% e di questo le tazzine è forse il primo esperimento smile non merch cioè ma è un prodotto nostro ma non di Dario Moccia questo è il nostro primo lancio diciamo con un investimento importante senza pre-order senza nulla proprio a cazzo duro speriamo possiate apprezzare però ho visto in chat insomma sono tutti abbastanza contenti dei prezzi qualcuno mi ha chiesto se la chiedeva i GSM ovvero il peso dei tessuti le magliette hanno un bel peso sostenuto però comunque le potete indossare in estate senza problemi sono 230 GSM 230 GSM che è grams per square meter quindi grammi al metro quadrato sono belle ignoranti le felpe sono 350 GSM 350 GSM è un peso medio che potete indossare in primavera estate la sera che sono morite però anche in inverno ovviamente io vi dico che sono molto caldo tutto è molto caldo chiedono ragazzi se ci sono le dimensioni piccole più piccoline abbiamo fatto anche XS eccetera si va dall'XL XS alla doppia XL comunque sul sito mi ha espressa richiesta perché sono un ciccione bastardo anche se ci sta lavorando a questo attenzione c'erano tutte le misure in centimetri sul sito di Garment e anche là lo schema di trasparenza costi quindi è tutto proprio alla luce del sole alla luce è meraviglioso così qualcuno poi dirà eh ma come mai costano vi mando il link di quello ve lo leggete e basta ma poi vaffanculo vestibilità vestono molto bene ragazzi anche post lavaggio ve lo garantisco ripeto io poi so alto e grasso e il fatto box io non ci sono abituato però comunque la felpa addosso che sta ampiamente bene cioè come larghezza spalle braccia busto e tutto il resto quindi sì forse quella un pochino più corta è la nera non so come mai c'è un taglio un po' più particolarmente corto però è comunque di vestibilità molto ampia orario uscita addirittura già sull'oreale alle 18 è pazzo 18 ok sarà l'una in Giappone va bene va bene se no possiamo fare pure le 16 si sa mai meglio se facciamo le 16 è meglio io devo contare così ancora ragazzi che purtroppo i numeri non mi entrano in testa la matematica va bene ragazzi io in realtà con tutto questo ho finito anche con Barem siamo stati in orario perfetto al volo il video di Palmenone si si mi sposto di là si si va di là e poi vedremo un video di Palmen che fa quello che avete appena visto ce l'hai no? si si sta sta là si fa da di là quando si è visto il video si fa vedere la felpa completa poi in onore questa è la vestibilità cropped ce la vedete? e questo è detto è una? questa è una M io sono alto un metro e settantacquattro un metro e settantacinque e no ci potenevo a far vedere perché noi la prima live che abbiamo fatto assieme che era io stavo collegato in streaming abbiamo parlato di collaborazioni tra mondo aspettiamo a basso mondo della moda e anime mondo anime eccetera eccetera non so che queste te le avevo fatte vedere però deve essere carina da mostrare capisci cosa sono poi immagino che si ah fighissime guardate guarda che figata ragà le unicorn in collab tra Nike skateboarding grazie con il simbolo della Nike anche tutto è proprio in classico stile gampla ci stanno anche decalcomanie sono dislessico all'interno che belle sono belle anche per me che mi guardano queste cose poi questa non è con manga ma comunque è divertente da mostrare per le collab sempre geek tu riconosci questa illustrazione la rinoscete è la collab tra questo brand losangelino di los angeles che si chiama brain in dead brain in dead e magic ce l'ho fatta anche delle carte pro ti fanno sbavare ogni volta è che sono sempre sold out i bastardi si si con l'illustrazione di questa è boomerang se non sbaglio questa carta che ti ribalza una creatura una creatura di un avversario in mano e poi adesso la faccio questa l'aveva indossato anche mangaka mi pare alla games week proprio blast non si può regalare a willy questa cosa ragazzi vogliamo bene a willy però questa qua tu te la sei ricordata dario immagino anche il maze si si questa è la collab tra undercover di jun takashi che è uno dei brand preferiti giapponesi e evangelion è il piumino qua non si legge vabbè dell'eva 01 che bello con addirittura tutto il dietro per la per il plug anale no ma così ha umbilical cord si si va bene il plug va bene cioè guardate come è fatta dietro e un'altra delle chicche di questa di questa di questo piumino è che quando tu metti il braccio dentro c'è questo blow di ah guarda figo che è fatto apposta per vedere le felpe smile esatto ho scritto evangelion 01 test type e adesso me la metto in dosso tutto faccio la sauna esatto però questo è veramente un bel pezzo per mostrare appunto le collab tra mondo anime manga geek che sia e mondo del fashion che figo e anche che figo eccoci ha disegnato palmen questa è quella di palmen disegnata a mano da lontano in realtà ma così no d'avviso da vicini sicuramente si vede che è più artigianale che bella grande palmen bene ci siamo ci siamo ci siamo ragazzi venerdì prossimo 5 aprile si vola si fa una settimana mettete soldi da parte pezzi di merda e compratele fate figure di merda bene dare le immagini tutto quanto sarà possibile certo poi su instagram facciamo tutto no ci siamo mille sab ora chi ora vuole ma questo c'entra delle mille sab con questa grazie mille fede grazie di quale ti accompagno e poi si riparte subito arrivo subito ragazzi metto metto muto arrivo su